Ieri a Ventimiglia, in occasione del mercato settimanale, polizia e carabinieri hanno eseguito una serie di controlli mirati all'ordine pubblico e al contrasto alla vendita di merce con marchi contraffatti. I poliziotti hanno sequestrato oltre 400 articoli, la maggior parte borse e calzature, attuando verifiche fin dal giovedì sera, quando molti ambulanti legali trasportano la merce a Ventimiglia per prepararsi alla vendita il giorno dopo. I carabinieri hanno invece denunciato un senegalese di 39 anni al quale hanno sequestrato un centinaio di articoli di abbigliamento e borse, tutti con marchi contraffatti di griff prestigiose. Sempre i militari dell'arma hanno anche recuperato e sequestrato un altro centinaio di articoli abbandonati dai venditori abusivi che evidentemente sono fuggiti alla vista degli stessi carabinieri.